buongiorno a tutti e bentornati su the italian maker oggi come prima cosa di solito non lo faccio mai ma vi chiedo di iscrivervi al canale se non avete mai fatto e a termine il video se vi è piaciuto lasciare un like è un gesto che a voi non costa nulla ma noi ci aiuta tanto per crescere continuare a portarvi contenuti sul canale ma vanno alle chiacchiere e iniziamo per chi ci segue su instagram saprà che siamo stati in polonia a fare una sezione di foto street con questa macchina una laica m allora iniziamo per chi non conosce il brand un po a parlare di laica cos'è laica cos'è laica m soprattutto hanno deciso di fare questa macchina nel 1953 ed è una macchina telemetro poi spiegheremo anche cos'è le varie evoluzioni di questa macchina hanno portato adesso siamo alla m11 della m3 in queste 12 edizioni il form factor non è mai cambiato la dimensione la disposizione delle ghiere è sempre rimasto molto simile nonostante siano passati dall'analogico chiaramente al digitale per un utente abituato a scattare con una m3 a pellicola se prende in mano questa in termini di spessore ergonomia dimensioni posizione del mirino si troverà in mano una macchina molto simile chiaramente digitale così come le lenti non hanno mai cambiato la baionetta che rimane uguale quindi io posso comprare una lente usata nel 1953 montarla su una macchina uscita quest'anno e funziona quindi questa cosa è molto bella poi questo brand ha anche un pedigree notevole è stata usata negli anni da grandissimi fotografi ma giusto per citarne due Robert Capa e Cartier-Bresson nomi importantissimi che hanno creato un po' la storia della fotografia proprio con queste macchine qua quindi Leica M il sistema M è un po' una leggenda un mito che cresce negli anni evoluzione evoluzione rendendo questo prodotto sempre migliore e la cosa meravigliosa che mi piace di Leica in generale di questo Leica M è che riescono a innovare mantenendo tradizione e storia quindi è un prodotto che come abbiamo visto è ancora messo a fuoco manuale a telemetro non può fare video può fare solo foto rimasto come design antico viene ancora costruito a mano a Wetzlar in Germania quindi ancora una produzione molto artigianale ma nonostante questo monta alcune soluzioni tecnologiche tra le più innovative del mercato quindi riesce a far convivere queste due anime tradizione con modernità vi dicevo nel sistema telemetro cos'è il sistema telemetro è il tipo di messa a fuoco che ha questa macchina che la contraddistingue da qualunque macchina tradizionale dove noi mettiamo a fuoco e girando sull'obiettivo il nostro effetto di fuoco va in avanti e indietro nel sistema telemetro noi avremo un'inquadratura che viene data da questo buco qua che è dove io vedo attraverso e poi qua c'è un altro piccolo quadratino praticamente all'interno del mirino io avrò la mia immagine grande e un quadratino più piccolino che è rappresentato da questo dalla visione io se anche ho le dita davanti all'obiettivo come vedete ho il tappo davanti ma dal mirino vedo lo stesso perché non sto vedendo attraverso la lente ma attraverso a questo mirino io vedrò due immagini che andando a fuoco queste immagini si sdoppiano fino a quando sono a fuoco giusto diventare sovrapposte quindi vedrò un'immagine sdoppiata che pian piano diventa a fuoco singolo quando le due immagini sono perfettamente sovrapposte ho la certezza di essere a fuoco lo so può sembrare macchinoso richiede un po di pratica non ve lo nascondo i primi momenti che ho avuto in mano non è stato semplicissimo ho sbagliato spesso il fuoco specie con un obiettivo come questo f2 che comunque ha poca profondità di campo è un attimo non essere precisissimi però mi sono accorto di un grosso vantaggio ci siamo trovati in situazioni di forte buio in condizioni in cui un autofocus tradizionale moderno con così poca luce non sarebbe riuscito andare a fuoco sarei comunque dovuto andare switchare sulla lente in manuale e andare a fuoco a mano e vedendo poco prendere il fuoco in termini di profondità non è semplice se non vedi bene quello che inquadri non è semplice però vederlo sdoppiato o non sdoppiato permette di capire meglio quindi questo è un grosso vantaggio del sistema telemetro oltre che beh riesce a essere molto più compatto rispetto ai sistemi con un mirino che sia reflex quindi un sistema di specchi o uno schermo dentro ma passiamo a quello che la rende così unica cosa questa m11 porta di così innovativo rispetto anche soltanto alla sorella precedente m10 intanto sono riusciti a migliorare il peso pesa il 20 per cento in meno della leica m10 la costruzione è tropicalizzata quindi potete usarla nelle peggio condizioni senza farvi problemi monta uno schermo dietro un tre pollici da 2,3 milioni di pixel con 800 nit di luminosità che non è affatto male per lo schermo della macchina e soprattutto copre il 100 per cento del gamut srgb quindi le immagini che vedete comunque lo schermo rappresenta in modo fedele quello che poi troverete a computer molte macchine dallo schermo sembra non tanto bella o magari un po' desatura o molto buia poi vista computer è una foto diversa qui quello che vedete è quello che è quindi questa cosa mi piace veramente tanto un'altra cosa che la rende molto moderna è il suo sistema di connettività tra i più evoluti e stabili del mercato ha un wifi a 5 gigahertz quindi è molto veloce sulla comunicazione con l'ipad con l'iphone con android e anche la comunicazione con bluetooth se no posso anche decidere una connessione di risparmio energetico in cui si accoppia lo smartphone tramite bluetooth usa il nostro iphone collegato come gps quindi salva nei metadati della foto il post in cui è stato scattato ha una porta usb c che permette di ricaricarla col power bank o attaccandola al muro e di collegarla a un dispositivo come può essere l'ipad per avere una comunicazione più più veloce rispetto al wifi sempre in termini di connettività questa macchina è una tra le prime ad avere una memoria interna infatti ha una memoria interna da 64 gigabyte che ci permette di salvare le foto anche dentro nel caso la nostra scheda di memoria è piena o ce la siamo dimenticata o vogliamo più spazio a disposizione questa doppia memoria fantastica ovvero posso decidere raw sulla memoria interna jpeg su quella esterna o viceversa tutto su una quando è piena vai sull'altra solo fuori solo dentro o backup io in questo viaggio per star tranquillo dato che non ho lo spazio per avere una doppia scheda di memoria perché è tutto contenuto all'interno della batteria che è da 1800 mAh quindi una buona batteria circa 60% più grande della m10 e essendoci poca elettronica non deve andare a fuoco in automatico non ha un mirino consuma poco quindi dura tanto lo spazio per la scheda qua è uno solo ma col fatto di avere la memoria interna posso fare un backup automatico non male da segnalare con la batteria se si è connessi invece il wifi col trasferimento veloce non dura tantissimo la batteria però siete in giro cavetto usb c power bank e in un attimo si ricarica quindi non è questo dramma la disposizione dei pulsanti è molto semplice non ha tante funzioni quindi ci basta un pulsante per vedere le foto un pulsante funzione entra nei menu la classica ghiera per spostarsi una rotellina per la compensazione o la ghiera con tutti i tempi fissi un pulsante personalizzabile tasto di scatto che comprende anche il tasto di accensione e qua la ghiera degli iso pecca negativa sulla ghiera degli iso per cambiarla va alzata e una volta che è alzata ruota ma è come vedete molto molto dura ad alzare non lo so tanto è già ben protetta è difficile che si ruoti per sbaglio io l'avrei fatta la possibilità di ruotarla come questa senza dover per forza alzarla cioè se si usa tipo in inverno con i guanti secondo me è inutilizzabile vero che la lasciamo su automatico e si arrangia lui quindi poco male ha la slitta del flash ci si può collegare flash ma chi usa questa tipologia di macchina dubito scatterà michael flash ma passiamo al punto saliente di questa macchina ovvero il cuore il sensore aiutato dal processore maestro 3 il sensore è uno tra i primi al mondo con questa tecnologia è un sensore retroilluminato stack ed da 60 megapixel ma ha la capacità di poter scattare a risoluzioni differenti e non è semplicemente una compressione del file raw può scattare a tre risoluzioni 60 megapixel 36 o 18 non è come dicevo una compressione ma rimodula i pixel semplicemente accorperà più pixel e userà più pixel vicini quindi otteniamo chiaro una diminuzione dei megapixel ma un aumento in termini di gamma dinamica e di tenuta iso a differenza di una qualunque macchina tradizionale soltanto abbassando i megapixel con cui scatta è un po la tecnologia che utilizza i nuovi iphone 15 sul 48 megapixel li rimodula per farlo zoom concetto è lo stesso ma sono i primi al mondo averlo messo su un full frame quindi come dicevamo una macchina tradizionale con poche funzioni senza modalità video né niente ma al suo interno il sensore più tecnologico che c'è sul mercato questa cosa è straordinaria questo sensore è anche dual native iso e in basso può andare fino a 64 nativi che è una bomba rispetto ai classici 100 o 200 perché ci permette di utilizzare il diaframma a tutta apertura senza dover montare un filtro nd con tanta luce posso scendere sugli iso 64 in alto può andare fino a 50.000 prima probabilità dei megapixel ci permette di non dover scegliere tra due macchine prendo ad esempio sony ti propone la 7r 60 megapixel o la 7s 12 megapixel chiaramente vabbè una è più votata al video e l'altra le foto ci ovvio ad avere due macchine separate una per avere un file con molta incisione un file con tanta tenuta iso ma se io volessi entrambi in un solo corpo sono all'aperto tantissima luce voglio fare un ritratto lo voglio nitido tanti megapixel voglio poter croppare fare quello che mi pare ma magari con la stessa macchina nel pomeriggio sono in un ambiente buio con poca luminosità e ho bisogno di più tenuta iso e scendo a 18 senza dover cambiare corpo macchina è molto molto più versatile e invece il 36 è secondo me il compromesso migliore perché abbiamo un file con una buona risoluzione ma guadagna uno stop di gamma dinamica in più del 60 quindi se volete tirare fuori il massimo in termini di gamma dinamica usate il 36 megapixel poi vi faccio delle foto con dei test un po più approfonditi ed è incredibile oppure anche la scelta di megapixel può dipendere dallo spazio che avete devo star via tre settimane a una sola scheda di memoria scatto 18 e sono tranquillo questa cosa qua può avere infatta sia su jpeg che sul raw fa il dng tra l'altro rispetto ai raw proprietari delle varie case canon che ha il cr lo amo può essere aperto da qualunque programma posso aprirlo con qualunque versione di photoshop non devo avere l'ultimissima versione di photoshop per aprire il raw dell'ultimissima camera uscita è un formato che mi piace parlando di che lente abbiamo usato per il test abbiamo utilizzato un summicron 35 mm f2 che è questo oggettino qua meraviglioso è appunto apposta per il sistema m e ha la regolazione dei diaframmi sull'obiettivo chiaramente da f2 a f16 morbidissimi e la messa a fuoco come vi dicevo a telemetro tra l'altro ha questo scavo che ci permette di inserire l'indice e poter focheggiare in maniera molto fluida è burroso il movimento è veramente piacevole con questa lente è leggerissima pesa 250 grammi è molto piccolina e ha una qualità sorprendente già la tutta apertura f2 è tranquillamente utilizzabile l'unico limite è dovete essere bravi a mettere a fuoco lei è perfetta se voi siete perfetti un'altra cosa che non mi fa impazzire di questa lente è il paraluce che per carità è realizzato molto bene ma se guardate è spesso la metà della lente cioè togliendolo questa macchina ho provato senza il paraluce a infilarmela nella tasca del giubbotto e c'è stata col paraluce sporge un po diventa un po più cicciotta e non è il massimo però cioè usiamolo proteggere la lente è bello quadrato questo buchino serve per non infastidire quando guardate dal mirino perché comunque rientra nell'inquadratura quando io monto la lente la macchina riconosce che lente è e mi crea una cornicina digitale quando è accesa nel mirino l'unico altro difetto che posso trovare a questa lente che ha una distanza minima di messa a fuoco di 70 centimetri quindi se vogliamo fare dei ritratti abbiamo poco spazio non è semplicissimo ora basta chiacchierare dai mettiamoci un po computer su photoshop e guardiamo i dng che è quello che alla fine vi interessa allora abbiamo fatto lo stesso scatto a varie risoluzioni adesso qua siamo a un ingrandimento come potete vedere del 700% per confrontare la foto a 18 megapixel quindi mappando il sensore a 18 a 36 chiaramente lo zoom essendo più più alta la risoluzione scende a 400% però ho cercato di tenere la stessa inquadratura e questo qui a 60 megapixel quindi tra i formati che può fare qui lo zoom è 377% allora come possiamo vedere la foto a 18 megapixel risulta un po sgranata comunque siamo a 3200 iso siamo andati a un quarantesimo e manca incisione nel dettaglio qua nell'edera sulla pianta il file da 36 secondo me si comporta molto molto bene adesso ricordiamo un ingrandimento enorme poi vi faccio vedere la foto generale ovviamente abbiamo avuto le stesse impostazioni si vede molto di più il dettaglio guardate la differenza comunque nel pattern nella texture della mattonella qua è molto più evidente invece il file da 36 in complesso se guardiamo anche la croce qua sulla finestra ha sì più risoluzione ma risulta molto più sgranato perché la sensibilità iso peggiora c'è troppo iso perde l'incisione quindi la risoluzione migliore da usare in questo caso secondo me è stata 36 megapixel questa comunque è la foto originale noi stavamo zoomando qua quindi partiamo da ben lontano ok adesso lo prendo ad esempio questa foto l'ho chiaramente sottoesposta ho sbagliato a impostare gli iso e è completamente buia ma vediamo quanto riesce a recuperare questo sensore allora stavo scattando a 36 megapixel il momento in cui il sensore ha più gamba dinamica proviamo a tirare su l'esposizione anche di 5 e v ragazzi cioè che roba pazzesca riesce a tirar su col così la foto al 100% sembra comunque perfetta mantiene un'ottima incisione proviamo andare un attimo a vedere al 300% ok rumore iso c'è non lo nascondo però ragazzi stiamo tirando su una foto di 5 ragazzi è pienamente utilizzabile una foto recuperata da una foto chiaramente buttabile quindi veramente un risultato incredibile qui invece andiamo ad analizzare una foto un po' bruciata chiaramente un po' troppo esposta siamo sempre a 36 megapixel qui ha scattato a 64 iso perché ho tenuto comunque un diaframma bello aperto mi piace lavorare con questa lente a diaframmi molto aperti tiene gli iso molto bassi ma nonostante questo abbiamo un pochino bruciato qua andiamo a vedere come se la cava semplicemente tirando giù le luci ragazzi direi che ottimo risultato andiamo a ingrandire un po' come prima 300% guardate un po' qua ok perde leggermente le tonalità di colore qua che era completamente bruciato abbiamo comunque un buon recupero del dettaglio l'immagine in generale è buona poi si può lavorare sui bianchi per ridargli un po' di tono che aveva perso ragazzi direi che lavorando un pochino sui bianchi e tirando giù molto le luci l'immagine è tranquillamente utilizzabile invece con questo file volevo un po' analizzare la gamma dinamica perché qua comunque voglio illuminarla tanto per avere più dettaglio sul campanile ma al contempo non voglio bruciare il cielo per mantenere queste sfumature di tramonto quindi non è semplice vediamo un po' come si comporta alziamo l'esposizione generale quindi qua abbiamo recuperato un po' di dettaglio il cielo come vedete si è un po' bruciato se tiro giù le luci invece ho il recupero che volevo aprendo le ombre ho il campanile illuminato lavoriamo un filino sul contrasto per mio gusto personale qua lavorerei un po' appunto su texture magari vedete qua per tirare un po' più fuori il dettaglio del campanile un prima o dopo c'è ragazzi guardate che roba da una foto buia dove ok il cielo era buono ma il campanile era completamente oscuro abbiamo tirato su le luci del campanile preservando le luci del cielo quindi direi un lavoro sulla gamma dinamica veramente veramente importante sempre lavorando a 36 megapixel ma ora concentriamoci un po' sui ritratti lascia sempre bocca aperta la morbidezza del bokeh di questo 35mm a 11 lamelle tra l'altro potete vedere l'abbiamo fatta a f3.4 quindi anche tutta apertura ed è morbidissima ma andiamo a zoomare con un crop del 100% guardate la nitidezza e la tridimensionalità che ha questo file questo qui è il dnj puro aperto non lavorato senza niente fatto e già comunque a me come colori piace tantissimo andiamo in un altro scatto qui ragazzi eravamo con soltanto una finestra davanti che dava luce e guardate come ha preso veramente veramente bello l'ingisione ottima alto ritratto qua è un po' scuro qui l'abbiamo stressato a 60 megapixel per vedere il massimo che può tirar fuori semplicemente già ad aprirlo un po' tirano un pochino sulle ombre un pochino giù le luci andiamo a vederlo ingrandito ragazzi qua i 60 megapixel spingono davvero tanto questa è un'altra prova di forza della tridimensionalità questa qui addirittura ha 18 megapixel perché stavamo per entrare nelle miniere molto buie volevo aver meno rumore ISO possibile guardate la tridimensionalità che ha e anche i colori i colori mi piacciono tantissimo è leggermente virato al magenta ha preso un bilanciamento del bianco un pochino magenta ma devo dire che mi piace veramente tanto e adesso passiamo alla fase in cui l'abbiamo martellata pesante ovvero in queste bassissime luci qua anche per noi mettere a fuoco era difficile perché appunto le condizioni di luce erano poche eravamo illuminati solamente da queste torce frontali in questo momento mi stava fotografando Dario questa qui, questa luce che vedete qua dietro è il suo fascio di luce che illumina per metà il mio volto e va qua guardate se pompo i contrasti come tiene bene questa mezza luce sul volto mezza in ombra io cercherei addirittura di accentuarla di più perché mi piace dare questo look un po' più contrastato un po' più hard poi qui magari in Photoshop dopo andrei a togliere questo quest'alone di luce per lasciare soltanto il profilo della persona in una foto un po' più frontale comunque si è comparato molto bene l'incisione devo dire per essere a 18 megapixel è ottima guardate comunque il file siamo a 5000 ISO potete vederlo qua file tranquillamente utilizzabile poi vi ricordo che adesso con l'intelligenza artificiale nuova abbiamo la riduzione del disturbo la super resolution prima e dopo tutto il rumore che toglie qui un po' più bassi di ISO il bilanciamento del bianco difficile in queste condizioni ha tirato un pochino al giallo ma ci sta e qua invece è molto buio siamo sempre sui 5000 ISO però si è comportata bene e qui invece abbiamo un confronto tra il jpeg a sinistra e il raw a destra quasi nulla differenza mi capita spesso di aprire file di canon in cui tra il raw e il jpeg c'è tanta differenza questo vuol dire che comunque l'algoritmo di interpretazione il processore maestro 3 riesce a lavorare molto bene e sa tirare fuori il meglio del sensore ci troviamo di fronte a un jpeg che è identico in termini di colori di tutto a raw e che soprattutto non ha bisogno di nessuna lavorazione spesso mi trovo che ok il raw non mi piace perché è un po' flat su canon ma lavorandoci riesco a tirare fuori i colori che voglio il jpeg invece è completamente diverso da quello che vorrei qui invece mi trovo con un raw e un jpeg uguali e il jpeg è quello che vorrei cioè se io mi mettessi a lavorare da me il raw lo tirerei fuori così top cioè anche per quei fotografi che non hanno voglia tempo, possibilità per esigenze di tempistica eccetera di dover lavorare il raw potete tranquillamente scattare solo in jpeg con l'affidabilità di avere un file finito già ottimo in questo viaggio abbiamo deciso di testarla appunto in street facendovi vedere un po' di scatti l'abbiamo portata ad Auschwitz per cercare di raccontare comunque un luogo delicato da raccontare e per tutta questa sessione ho scattato in bianco e nero perché mi sembrava quello che meglio rappresentava quel posto e il colore che meglio mi aiutava a descrivere quel posto a raccontare quel posto passiamo un pochino ai contro invece di questa macchina che sono la connessione a un mac barra windows tramite usb c se la collegate col cavo usb c al computer non succede niente io mi aspettavo che venisse vista come una chiavetta usb avendo una memoria interna o un hard disk invece no su mac devo aprire un programma che si chiama acquisizione immagini ed è molto lento file da 60 megapixel pesano aspettare che lui se li legge uno a uno e se li importa no quindi alla fine anche se è una memoria interna ho preferito trasferire i file sulla scheda di memoria e mettere la scheda di memoria nel computer idem con l'iPad se non ho l'applicazione Leica Photos non posso vedere i file io mi aspettavo di poter collegare i cavi e come per magia in file vederlo vedere come se fosse un SD e importare i file così non è mi piacerebbe vedere in un futuro questa cosa non solo su Leica ma su tutte le macchine fotografiche un altro aspetto negativo è quanto riguarda il tempo di accensione e l'uscita alla standby non è velocissima infatti si può impostare i spermi energetici dopo quanto va in standby ma mi sono accorto che a uscire dallo standby devo cliccare pulsante di scatto per essere una macchina quasi tutto manuale e una macchina per cogliere l'azione della street essere così lenta a uscire dallo standby rischia di potervi far perdere qualche scena se Leica guarderà questo video vi prego di lavorare sul firmware o con un aggiornamento software per velocizzare un po' l'uscita dallo standby perché è un po' troppo lenta per i miei gusti ringraziamo Leica Camera Italia per averci dato questa macchina in test ringraziamo soprattutto voi che siete stati fino alla fine del video per guardare la recensione di questo prodotto grazie a voi il canale continua a crescere e continuiamo a portare questo genere di contenuti un saluto da The Italian Maker